no io metti dentro il pilota facciamo al pepe ma sta giocando a casa facciamo al pepe che ha levato la legge costa 7 ore di voler rapire chi deve pescare no, ti filmato io passerà allo store ecco il vero lavoro del barista fai una struttura in ferro in arrivo biancone guarda che Renata non gliene frega un cazzo abbatti anche lui Gio ma cosa tieni in mano? c'è il signo che vuole un caffè ma stai prendendo Claudio ah si attenzione Gio prima che mi sto per il vento poi tira la sua guardia 10 giorni 14 7 io adesso vogliamo la sua ce l'ha dato l'anzetto così capito ma ormai c'è uno di artista che fa il taglio non è che sia una sigaretta lei non ha proprio non ha detto una sigaretta non ha proprio non ha proprio non lo ripresa non lo ripresa che cosa fare da Dio? no, lei non lo può pagare questo è 7 ore? grande pubblico al bar mila per 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 Ma ancora lei voto? Perché bisogna far piano No, no, no Guarda che non bisogna di una mano Guarda qua, guarda qua Non puoi fare No, chissà che Ehi, a scherzalice Ci voleva Ago i filoni Ehi, a scherzalice Ehi, a scherzalice Direttamente da qui in canale Ehi, a scherzalice 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 Guarda che la dica Guarda che la dica Ehi, a scherzalice Mi metti del filmato? Stavo tanto a casa, eh Mamma mia E no, per fin sì Dormile ti regala sempre Grazie a tutti Sì, è vero Guarda che se è stato Ehi, a scherzalice Fatta sempre e sciupa tutti e sciupa tutti sciupa tutti la quadra soggetto che non è padovan ma è la la SPF venga davvero ne? piantino a rensa tra l'altro che la faccia decolare come una pezzo fiamma esci come il bottico dove i due romani fratelli d'Italia d'Alto Grillo si vede si vede si vede e' l'aria sta andando ora va a dire qualche calzata perchè è il calzato la scelta è buona è una kinda e' la maglia di passi la maglia di passi e' la fai stessa e' la fai stessa e' la stessa e' la stessa era troppo aria grossi problemi adesso c'è un po' di fuoco di cavi ٌ lo è male c'è vada Oh, non va! Aia, 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 aia! Ma il ca, dov'è che va dentro? C'è, si va molto il brusso del capo! No, il brusso del capo del palco! Beh, ho preso e mi raccogli sono passati! Beh, si vedo più! Sarà un certo volo di mezzo! Si vedo più quello! La va un po' con fare un po' da ciucca! Ciao! Ciao!